Stile perfetto, uno stile che deve uscire il più possibile buono, uno stile eccellente. Nella prima fase chiedo alle paderine caricamento e lavoro delle anche. Poi chiedo il giro, agli uomini chiedo il 360 alle donne, quindi occhio a questo sfiancamento che deve essere molto tonico e bello in tezione. Il 5, 6 e 7 ci apriamo, se l'uovo non mi fa il check, facciamo il check e quindi faremo 1. Se l'uovo non mi fa il check e mi carica sulle giri con le mani, allora facciamo solo un carica-carica. Non l'abbiamo detto prima ma è un qualcosa che noi già regularmente facciamo, la ricorsa voglia sempre con il twist per cercare di prendermi la carica e poi solo doppio giro, se ce la potete fare, sempre tenendoti sul punto di origine, ok?